Ciao ragazzi, sono Sav, come va? State cercando un metodo efficace e veloce per diventare veramente fluenti in una lingua straniera? Ma niente di più facile, la soluzione è italki, il sito di riferimento più impiegato per l'apprendimento linguistico. Su questa piattaforma troverete oltre 4.000 insegnanti madrelingua provenienti da tutto il mondo, che vi assisteranno, a seconda delle vostre esigenze e anche obiettivi, nel completo e professionale apprendimento della lingua che desideriate apprendere. I motivi per quali vi consiglio vivamente questo sito web? Beh, sono tanti. Numero 1. Gli insegnanti in carne ed ossa, ovvero umani, sono in assoluto il miglior metodo per apprendere una lingua straniera. 2. Le lezioni vengono personalizzate e strutturate in modo tale da andare incontro alle esigenze di ogni studente. E poi si sa, le lezioni individuali sono di certo preferibili a quelle che si tengono in una classe con magari 20 o più studenti. 3. È conveniente, in quanto non viene nemmeno il bisogno di spostarsi da casa o dall'ufficio e si possono organizzare le lezioni a qualsiasi orario venga più comodo. 4. Si risparmia mediamente il 30% rispetto al costo di un tutor offline, per poi non parlare del costo di certe scuole o corsi su cd. 5. Il poter imparare la lingua parlata, ovvero tutto quello che riguarda il linguaggio, la cultura e tanto altro ancora, grazie al contatto con persone che vivono davvero nell'ambito culturale e linguistico di nostra scelta. Ma ora arriva la sorpresa per tutti voi miei amati iscritti e followers. Se cliccherete sul link che si trova sotto in descrizione, link che potete ora anche vedere in sovrimpressione, acquistando la vostra prima lezione, otterrete 100 crediti aggiuntivi italki, equivalente a 10 dollari, che verranno depositati direttamente nel vostro account studente, che potrete impiegare per acquistare altre lezioni. Molto bene ragazzi, a questo punto avrete due scelte per poter accedere a questa promozione. O cliccare direttamente sul link che trovate nella descrizione del mio video, oppure aprendo il nostro browser di internet, inserire direttamente nella barra degli indirizzi il link che appunto vi ho fornito nella descrizione del video per poter accedere alla promozione. Facciamo quindi copy and call e vi troverete sulla mia pagina di promozione personale. Molto bene, andremo appunto ora su iscriviti ora, perfetto, ora dovremo inserire i nostri dati, una volta iscritti, come vedete si può anche poi optare per l'iscrizione tramite facebook, comunque una volta iscritti accederemo alla nostra pagina che avrà questo aspetto, dopo esserci appunto iscritti al sito potremo accedere adesso e andare alla ricerca del nostro insegnante di qualsiasi lingua. Clicchiamo quindi ora su trova un insegnante, scegliamo quindi la lingua che ci interessa, che appunto un insegnante insegni, scegliamo ad esempio il francese, disponibilità, quindi dove potremo impostare certi criteri di ricerca e andiamo quindi su sfoglia e troveremo quindi una lista di persone che insegnano la lingua di nostra scelta. Sicuramente potremo anche poi impostare tantissimi altri criteri per poter essere più precisi nella ricerca, ecco. Ciao ciao!